Siamo nel cuore di una capitale che è stata città imperiale, culla dell'arte e della musica, residenza di una dinastia adorata quasi 700 anni. Corrado Augias ci racconta Vienna, tra luoghi misteriosi, opere d'arte e personaggi che l'hanno percorsa e vissuta. Vienna è una città che continua a muoversi. Città segrete, sabato alle 21.45, Rai 3. Attenzione tutti, 4, 1, ottava. Direttore e vice direttore, cosa richiede questo ruolo? Richiede senso di responsabilità e spirito di team. La mattina vediamo il pomeriggio, Roberto Bolle, Fiorello e la domenica abbiamo una rassegna horror. Niente sport. Su questo stiamo ancora trattando. Con la nuova RaiPlay, sei tu a decidere cosa e quando vedere. Un catalogo infinito di film, fiction, documentari, cartoni animati, programmi e contenuti in esclusivo. Una piattaforma completamente rinnovata e semplice da navigare. Da PC, tablet, smartphone e smart TV.